alla fiera di Mastro Andrè ha giù comprato lupi fariello piripipi lupi fariello alla Mire alla Mire alla fiera di Mastro Andrè alla Mire alla fiera di Mastro Andrè alla fiera di Mastro Andrè ha giù comprato un tamburiello tiri di lulu tamburello piripipi lupi fariello alla Mire alla Mire alla fiera di Mastro Andrè alla Mire alla fiera di Peppinello il sindachello a Napoli si direbbe ma ovvero stai facendo ma davvero questo ma questo è davvero un sindaco e poi il sindaco di Milano ma pensa davvero che noi milanesi perlomeno coloro che si ritengono tali abbiamo scritto qua sulla fronte pirla come direbbe lo pseudo fantamilanista nell'altro mio canale delirium italicalcio ma questo è impazzito ma cosa pensa che siamo veramente alla fiera di Mastro Andrè qua sullo stadio di San Siero meno male che stasera c'è il Milan ragazzi e dalle 4 di mattina che sono sveglio quando gioca al Milan ragazzi io mi sveglio stile Diego Abbatto Antuono mila mila squadra grande squadra mia cioè io ogni volta gioca al Milan è così ragazzi ma comunque iniziamo perché oggi ci sono delle notizie davvero allucinogene cioè roba che i giornalacci giornalisti non so se c'è qualcosa nell'aria hanno spruzzato qualcosa non lo so non ho la più pallida idea però una cosa so che anche oggi dobbiamo farci due risate insieme a loro quindi iniziamo tribuna sonera tribù di gente vera buongiorno e buon giovedì 15 di febbraio a tutti e a tutti è bentornata è bentornato qui sul canale del marietto milanista avete passato bene avete passato bien ha spassato bien il San Valentino ieri è passato bene San Valentino ieri eh non è finito ammazzati perché ci sono a volte delle cene tra innamorati che poi finiscono male perché uno gli porta un regalo no non volevo ma cos'è sta merdaccia di roba ue ogni anno mi mi dai sempre la stessa roba cioè dopo anni anni che stanno insieme addirittura pensate ieri apro e chiudo una parentesi sono stata da un da una cliente praticamente per il discorso del mio lavoro voi sapete sono rappresentante di una eh di un'azienda che tratta con eh apparati informatici e dunque eravamo lì per un per una tele allora ho detto signora allora oggi con suo marito San Valentino ma quale San Valentino dice è 50 anni che lo sopporto detto vabbè dai non è una cenetta dai sì vabbè comunque chiusa parentesi torniamo a noi perché perché il nostro eh grazie a tutti coloro che anche ieri mi hanno eh sostenuto e visto nell'altro mio canale la tribuna e il pallone dove abbiamo tirato fuori un bel argomentino eh cos'è successo a Mourinho qua in Spagna andatevelo a vedere e cos'è successo tra i giocatori coreani prima della Corea del Sud prima di Corea del Sud Giordania andate nell'altro mio canale la tribuna e il pallone così anche con deliriumi tali calcio vi ringrazio tutti coloro che si sono fatti delle sane risate dopo le le mie reaction eh dell'altro giorno quindi andate in questi anche altri miei due canali poi saggezza popolare per chi vuole aprire un po' il cervelletto suddetti e proverbi italiani mi raccomando andate anche nel mio quarto canale quattro ma manco la Fininvest manco la Rai c'ha quattro canali no loro c'hanno Rai quattro c'hanno Rai movie è vero vabbè però siamo su quella strada lì allora ehm pepinello il nostro sindacchello bello bello San Siro in vendita per cento milioni l'annuncio a sorpresa Dio mio io io ragazzi non ce la sapete il film quello di Carlo Verdone ehm Bianco Rosso e Verdone quando c'era la parte che faceva il torinese c'era lì la moglie Magda Magda hai preso questo Magda lei quando va nei cessi quelli lì dell'autogrill si siede fa non ce la faccio più non ce la faccio più ecco io con sto sindaco ragazzi non ce la faccio più l'ho detto in tutte le salse allora praticamente sappiamo che eh l'altro ieri c'è stato questo incontro anche eh tra il sindaco di ehm di come si chiama di San Donato Milanese per il discorso ehm per il discorso stadio lì a San Donato nella zona che il Milan ha già preso già c'è già c'è il rogito e tutto ha preso già terreno del quartiere San Francesco per fare il nuovo stadio vabbè poche parole ehm è eh emersa un'importante criticità del progetto di questo incontro che ha avuto il sindaco appunto di eh San Donato eh Squeri con i cittadini e praticamente a che cosa è legata al numero dei parcheggi infatti il coni in materia di grandi eventi sportivi con più di settantamila spettatori obbliga a fornire almeno dodicimila ottocento novantasei eh posti auto. Il club rossonero nel loro progetto ne ha inclusi quattromila cinquecento sotterranei più circa settecentocinquanta in superficie. Ovvio che si potranno recuperare altri posti eh auto in altre zone ma ovviamente la situazione va studiata un po' più nel dettaglio. A tal proposito proprio il sindaco di San Donato Squeri ha dichiarato se non si sviluppa la mobilità sul rotaia necessaria siamo disponibili a votare contro. Non è detto che il Parco Sud sia eh dia il suo assenso il progetto potrebbe cambiare di tanto. Quindi anche su San Donato sta procedendo eh senza non eh non senza anzi intoppi dopo appunto questo dibattito pubblico. Ma il problema alla radice è sempre uno. È la burocrazia italiana. Cioè in Italia quando uno vuole investire vuole far qualcosa di grande quindi eh dare anche l'opportunità di posti di lavoro perché noi sappiamo benissimo che eh il Milan creando lo stadio non sta creando solo lo stadio ma attorno eh c'è tutta una cittadella con ristoranti con servizi negozi e compagnia bella che darebbe un botto di posti di lavoro. E niente. No. Dobbiamo sempre andare a trovare il cavillo, il pelo nell'uovo, in ogni cosa, tra l'altro in un'area dismessa. Cioè non è che è una raga che dici sai eh un conglomerato dove ci sono case, dove ci sono edifici. Dobbiamo sempre trovare il cavillo però al di là di questo che poi vedremo con il tempo come si svilupperà tutta questa situazione. Ecco qua il nostro sindachello Peppinello che eh non può non dire la sua e quindi che dice il nostro caro sindaco. Allora ehm rilascio l'intervista al Corriere della Sera e dicendo è legittimo che le squadre cerchino la possibilità di fare un altro stadio perché si patrimonializzano ed è doveroso che io difenda lo stadio. Anche perché se vanno via cosa faccio io con San Siro? Eh che fai tu a San Siro? Eh 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 bello mio ci potevi pensare almeno sei anni fa eh? Quando io vi dicevo sempre che c'era Scaroni lì con la tenda a checiua del Decathlon fuori da Palazzo Marino che per chi non lo sapesse che non è di Milano dove c'è il comune di Milano. Eh perché era lì per trattare, vedere se c'era una possibilità o meno e questi sempre respingero una volta la volumetria, una volta l'impatto ambientale e una volta gli ecologisti, una volta i comitati di quartiere, ogni volta ci aveva fatto due palle. Poiché però è sempre problemi. E dunque dice dovrò trovare una soluzione e metterlo in vendita. È qui alla dire alla fiera di Massa. Ecco la fiera delle pulci. Mettiamo San Siro alla fiera delle pulci. Oggi non è facile costruire uno stadio in un territorio molto urbanizzato. Le squadre hanno garantito di rimanere fino al 30 giugno 2030. Quindi si parla di un lungo percorso. Hanno garantito di rimanere quando? Quando dicono Cassandonato già da 2028-29 e se è già tutto pronto il Milan se ne va. Ma chi te l'ha detto? Ma veramente? Vabbè. Poi non voglio fare i conti in tasca ai club ma realizzare uno stadio nuovo e serio. Detto da lui, la parola serio detta da Sala è come dire la guerra santa. Un già zecco. Costa almeno un miliardo e due di euro. Alle squadre dico San Siro vale 100 milioni con un diritto di superficie a 90 anni ma come non è 99 prima. Mi date un milione all'anno. Che è il pizzo. Mi date un milione all'anno e zitti zitti mi faccio fare tutto coso. Ma dai. Certamente dovete ristrutturarlo ma le cifre sono differenti. Se non si possono fare i lavori mentre ci sono le partite allora hanno ragione loro. Ma se si può il mio invito è rifletterci. Ragazzi a me mi sembra veramente una barzelletta sta storia dello stadio. Non so voi come la vivete ma io veramente la vivo. Cioè non ho più parole per esprimere questo sindaco. Non ho minimamente più parole come non ho più parole anche per ciò che riportano i giornalacci più venduti. La gazzetta dello sport stamattina eh al di là che voglio fare i complimenti alla Lazio. Grande vittoria ieri col Bayern Monaco su calcio di rigore di Ciro Immobile. Partita tosta contro la squadra tosta che non sta passando un bellissimo momento. Già ve lo ricordavo l'altro giorno dopo che aveva perso in casa e aveva perso in casa sì del del Bayer Leverkusen 3 a 0 in Bundesliga. Quindi non è che sta venendo da un momento facile eh. Infatti c'è Tuchel che sta rischiando l'esonero. Vi dico solo questo. Però il Bayern è un'entità che lì se non hai dei risultati ti cacciano dopo due giorni. Perché la Baviera rappresenta lì il cuore pulsante proprio Bayern dei Land Teteschi no? E dunque la Rosea cosa tira fuori dopo tre anni dallo scrigno magico praticamente retroscena su Cialanoglu con il Milan. Ragazzi io non ce la faccio essere serio con quei. Ma perché sono giornalisti? Cioè dopo tre anni mi tira fuori. Ma da dove l'hanno tirato fuori sto retroscena? Scusate eh. Allora dice all'epoca Cialanoglu percepiva dal Milan due milioni e due di euro e Maldini aveva messo sul piatto un prolungamento triennale di tre milioni e mezzo di euro bonus inclusi. La richiesta è invece di cinque con malotta malotta che ha poi accontentato il ragazzo. E dunque? E voi da dove avete preso questa notizia? Chi ve l'ha data? Potete portarci la fonte? No perché a noi youtuber sempre ci chiedono le fonti. Siamo dei cazzari. Invece voi chi vi danno le notizie? Ce le potete dire? C'è un segreto professionale per dire stronzate. Non lo so io. Ditemi voi perché a sto punto c'era uno che entrano qua nel canale ma tu non dai informazioni ehm o notizie sul Milano. No io sono qua per smontare le cazzate che è diverso. Cioè ognuno allora voi dovete pensare ci sono se volete sentire notizie a pappagallo ripetuti da eh dai vari giornalisti pelegati Suma e Vitiello i Longoni che poi ognuno poi scelga il suo eh io non è che mh non significa che io possa avere stima per tutti per qualcuno di loro sì ma per altri insomma ehm piuttosto che altri youtuber milanisti notizie ve le danno tutti sono le notizie che trovate anche voi. Io quello che do è una un approccio diverso alle stesse notizie ovviamente per smascherare le stronzate. Cioè questo è il mio ehm il mio ruolo capito? Cioè non è che tu giochi a calcio c'è solo il portiero c'è solo l'attaccante ci sono anche i difensori centrocampisti c'è l'allenatore cioè ci sono ruoli. Ecco ognuno anche nel tubo YouTube ha un ruolo e il mio è questo. Poi con quattro canali sapete che uno di cabaret con delirium italicalcio l'altro dove parlo di quelle notizie che un po' si evitano su eh o si mettono un po' di lato si dicono però non si dicono eh sull'altro canale la tribuna del pallone. Poi su saggezza popolare detti e proverbi italiani dove da lì gli do sempre un taglio psicopedagogico e nell'ultimo che avevo fatto domenica più sociologico. Quindi con me trovate una varietà di cose. Io non sono un giornalista e non cioè mettermi a livello di quelli là preferiscono rimanere uno youtuber assolutamente. Dunque esce fuori questa cosa qua ma non finisce qua ragazzi perché voi dite allora se una deve dire la cazzata allora o la dice bene o allora dobbiamo dirla in maniera ancora un po' più grossa. Allora praticamente altra notizia che arriva sempre dai soliti fenomeni il PSG scippa l'Inter ecco il colpo in attacco niente Leao. Ma se fino a ieri mi stavate dicendo che Leao lo vuole il Paris Saint Germain barra Barcellona. Cioè vedete conto le cazzate che dicono? Poi la gente li segue poi fra quattro cinque mesi si saranno dimenticati delle stronzate che dicono perché ne dicono talmente tante tutti i giorni che poi arrivi a un punto e dice che cazzo aveva detto? Ah ma l'aveva detto? Sì l'aveva detto. Ti mandano in confusione. Cioè questo è proprio il despistar come si dice. Cioè proprio ti fanno perdere veramente ogni senso e ogni della logica delle notizie. Cioè non hanno proprio senso le cose che dicono. Cioè sono delle grandissime boiate. Allora cosa dicono adesso? Praticamente visto che Chiliam Mbappé è sulla sulla via di Madrid non è la via di Damasco la via di Madrid in Spagna con il Real Madrid sembra che visto che vogliono rafforzare la colonia francese in quel di Parigi il PSG prende va a prendere l'attaccante dell'Inter Marcus Turam che con la maglia dell'Inter ha realizzato undici gol messo a segno undici assist rappresenta un cinquanta sessanta milioni in questo momento la sua valutazione profilo ideale per il Paris Saint Germain che non ha smesso di osservarlo che in estate potrebbe potrebbe cioè prima ti dicono eh ma su di lui poi potrebbe decidere cioè questo potrebbe questo condizionale ti fa capire che è una stronzata perché loro sanno potrebbe loro sanno che il Paris Saint Germain affonderà i colpi su eh Turam cioè io davvero ragazzi non so voi ma boh poi ognuno sceglie eh il fatto suo ma io onestamente mh anche no e stasera stasera c'è Milan Ren addirittura i francesi comprano una pagina della della gazzetta eh e avvisano con dare tutto addirittura e beh poi prendendo il club Breton e ha acquistato l'ultima pagina dell'odierna gazzetta dello sport avvisando il diavolo Ren dal primo all'ultimo minuto dare tutto l'orgoglio la passione e il fervore a un appuntamento questa sera a San Siro saremo in migliaia a celebrare l'amore dei nostri colori rossoneri come il forza e quindi forza Ren eh solo la gazzetta poteva vendere una pagina sono dei giornali più venduto eh solo loro potevano vendere una pagina anche a un club con tutto rispetto e infine sempre loro praticamente se i rossoneri dovessero vincere la competizione guadagnerebbero 15 milioni di euro dalla UEFA a cui andrebbero aggiunti i soldi del market pool e quelli del botteghino per le tre partite in casa ottavi quarti semifinali beh ci sarebbe anche stasera in ogni caso inoltre vincendo la competizione Milan si qualificherebbe anche la prossima edizione della supercoppa europea che vale un incasso intorno ai tre milioni e mezzo la caccia ai 40 milioni dunque è aperta grazie per l'informazione cara gazzetta ti vogliamo sempre bene essendo uno dei giornali più venduti che esistono in Italia e nel mondo quindi per concludere eh oggi non è che c'è tanto da dire sui giornalacci anche perché eh a parte la gazzetta interista dello sport che mette settecento di questi girù oggi settecentesima partita tra tutti i club di Oliviero Lo Sparviero Bombervero Fanta Lazio con Ciro Immobile in mezzo e ovviamente non potevano mettere qualcosa dell'Inter Inzaghi così con la doppia stella peccato che non mettono di cartone la seconda però doppia stella Inzaghi firma stellata se tutto va bene a fine stagione campionato Champions rinnovo fino al duemilaventise tutto Juve Sport Juve scatto Zaccagni altro che Bayer grande Lazio Milan occhio a Ren De Zerbi dopo Chavi a Barcellona ci sono gli agenti qui a Barcellona per discutere un eventuale passaggio dell'allenatore italiano qui ai Catalani Lazio Osì io pensavo che Osimè no Osì Ciro Stendelbayer una notte strepitosa Bologna da Champions ecco ieri c'è stato il recupero Bologna Fiorentina due a zero con un super Orsolini e Odcar firmano la terza vittoria di fila agganciata all'Atalanta italiano in crisi solo quattro punti in sei partite adesso è a meno cinque quindi la squale il quinto posto adesso dal Milan sono a meno dieci quindi siamo sempre a più dieci dal quinto posto in eh per quanto riguarda la corsa Champions e infine Pioli Milan obiettivo finale il tecnico lancia la sfida nella nostra bacheca manca questa eh coppa un motivo in più per arrivare fino in fondo spazio Leao nel tridente con Giroud e Pulisic che novità spazio Leao come se fosse se dicendo spazio Okafor o spazio che ne so io a a Jovic e Leao titolare vabbè oggi vediamo ragazzi se riesco a fare due cose o una delle due vediamo perché dopo Milan Run ci sarà ovviamente la live reaction del post partita mia poi eh nel pomeriggio dovrebbe uscire già ve lo dico perché dipende molto anche dal mio impegno oggi di lavoro eh un un nuovo un nuovo video sulla eh tribuna del pallone che ha a che vedere ancora con l'eredità di Agnelli perché spunta un altro clamoroso colpo di scena quindi ne vorrei parlare di questa cosa perché già l'altro ieri ne stavo parlando e quindi è un po' un filo conduttore tra quello che ho detto due giorni fa ma allo stesso tempo ci sarebbe la voglia visto che ieri non ho potuto proprio per questioni personali non ce l'ho fatta per tempi fare l'analisi della conferenza stampa che c'è stata ieri di Pioli e eh Gabbia solite domande scontate ovviamente però giusto per prepararci a questo Milan Run di questa sera se riesco a farla intorno alle sette quindi un'oretta un'oretta e mezza massimo di live magari con qualche partecipazione facendovi entrare a voi lanciando il link entrare in live vedo però da questo punto di vista non vi assicuro niente perché dipende molto dal lavoro mio personale che io faccio quindi se ce la faccio molto volentieri tanto per chi mi segue per chi è iscritto per chi ha la campanile attiva per chi è nel mio gruppo di facebook del marietto milanista per chi è nel gruppo whatsapp piuttosto che telegram gruppi chiusi degli abbonati ovviamente sapranno già questa cosa ok io comunque lancerò in ogni caso anche il messaggio a tutta la community attraverso il canale in caso io faccia anche questa line mi raccomando forza animo coraggio alziamo le vibrazioni perché stasera dobbiamo vincere io voglio sapere né mu e né ma ok e soprattutto né mu rigno voglio fare la battuta la battuta beh tanto questi con tutte le stronzate che dicono questi non posso fare una battuta finale eh allora dunque buon giovedì ragazzi noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti un bacio all'amico un forte braccio a tutti gli amici e sempre forza milan ovunque comunque ciao